Stefano Marchigiani, la sanità è salita prepotentemente la ribalta dopo le dimissioni della Storti e anche di Berselli. La sanità fanese soffre per problemi endemici, ma ora si trova veramente in mezzo al guado. Sì, questa fuga dei vertici è sintomatica di non voler condividere delle responsabilità politiche probabilmente. Questi quattro anni hanno visto la sostituzione di fatto prima della Capalbo, poi del dottor Gentili e poi adesso della dottoressa Storti. Ma poi anche la dimissione dagli impegni di Berselli ci dice che dopo il taglio di 80 milioni di euro le riforme che volevano essere messe in campo e la cui tecnicalità veniva data a questi interpreti non si possono fare. Il disegno, anche comprensibile dopo il fallimento dell'ospedale unico, di diffondere nel territorio tanti ospedali che potessero anche in alcuni casi assolvere funzioni che io personalmente non condivido, sono per gli ospedali di base, certo che devono supportare il territorio perché poi le specializzazioni vanno tenute nei presidi forti. Questa cosa non si sta avverando, è una riforma zoppa che dà del disagio, grandi investimenti negli edifici, pochi investimenti nei contenuti. Non esiste una prospettiva, venendo a Fano, qual è il destino del nostro presidio sanitario? Che cosa si vuole fare del Santa Croce? Perché un ospedale che assolve a più visite di Pesaro non viene restituito almeno al primo livello? Non dico con tutte le specialità, perché siamo a 12 chilometri, ma Santo Cielo non può essere manco un vago poliambulatorio per cui non si sa bene che è destino dare. Ma poi perché non c'è una casa della salute che assolverebbe e invece sgraverebbe la struttura? Perché non c'è una RSA? Il disagio che gli anziani, i malati psichici e anche i portatori di Endica provano quotidianamente sta diventando insopportabile. Come diceva in una recente intervista interessante il dottor Battistini, difendere i presidi di confine, in particolare Pesaro e Fano, significa contenere anche quella enorme spesa di sopra i 40 milioni di euro di pendolarismo sanitario verso l'Emilia Romagna, che riesce a dare risposte più tempestive, sarebbe opportuno come strategia. Poi c'è un altro aspetto che ci preoccupa, l'entrata in crisi tra un po' di quella sanità convenzionata con il pubblico, privata convenzionata, perché le tariffe sono ferme al 2014 e anche lì qualcosa scoppierà. Quindi siamo molto preoccupati, noi non vogliamo fare demagogia, vogliamo però pungolare, stimolare una regione che prenda una strada di fattibilità, di concretezza, di fronte a una gestificazione sanitaria che impone enormi spese anche con i medici delle cooperative. Il centrodestra mette in evidenza come Sufano farà investimenti sulla palazzina delle emergenze e urgenze, sull'ospese pediatrico. Basta questo per porre un tappo al buco che si è aperto? Per carità, sulla riqualificazione delle strutture edilizie di un ospedale siamo tutti d'accordo, ma con quali contenuti? Non c'è stato risposto in Consiglio Comunale. Noi dobbiamo sapere cosa ci mettiamo dentro. Non basta un attacco ogni tanto, perché le esigenze sono molto forti, quindi registriamo che benissimo si possa fare un aggiornamento di un'edilizia sanitaria vecchia che va riformata, però serve anche cominciare a capire che cosa ci mettiamo dentro, con quale personale, con quali costi preventivi. Se questo è un assaggio dell'autonomia differenziata di cui parlava Calderolli e di cui si sta discutendo, sappiamo bene qual è il destino che tocca una regione piccola come la nostra. È un destino di serie B. Noi dobbiamo e siamo per finanziare fortemente la sanità pubblica, perché va nell'interesse di tutti, è un diritto costituzionale, quindi altro che tagliare 80 milioni di euro. Grazie a tutti.